buonasera siamo di nuovo collegati con franco fracassi siamo ci siamo sentiti non più di tre mesi fa mi sembra ciao franco come stai ciao bene salva tutti il tuo ultimo libro era protocollo contagio giusto sì e adesso adesso ne hai già scritto un altro se sei una saetta a scrivere mi fa invidia diciamo che sono abbastanza rapido ne riesco a fare anche due tre all'anno mamma mia che invidia io ci metto tre mesi a decidere cosa fare soprattutto dunque questo si chiama quarto reich e se il titolo non fosse abbastanza esplicito nel sottotitolo si legge sono più potenti che mai e condizionano le vite di tutto il pianeta inchiesta sull'internazionale nera allora io ero rimasto a scuola ma avevano insegnato che il nazismo è finito nel 44 quando è finito hitler o 45 invece pare che non sia così come la storia no assolutamente no non è così perché perché le persone che che per chi nazisti perché i dirigenti del terzo reich ma non solo anche tutti gli altri nazisti e fascisti disparsi per europa a un certo punto resisi conto che la guerra era persa hanno si sono riuniti e hanno ragionato hanno detto noi abbiamo perso la guerra però i nostri i nostri ideali gli ideali del ideale del nazifascismo non sono legati alla germania non devono essere per forza legati a un luogo sono ideali universali quindi noi possiamo tranquillamente trasferirci altrove e continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso o quantomeno tentare di raggiungere gli obiettivi ci siano posti e sono riusciti a farlo grazie perché altrimenti probabilmente non ci sarebbero mai riusciti grazie a un aiutino esterno fondamentale di un personaggio chiave secondo me anche della seconda guerra mondiale in europa cioè colui che era a capo del controspionaggio americano che era un nazista molto semplicemente era un nazista che stava lì che sembra uno simbolo un nazista che aiutava i partigiani a combattere i nazisti comunque insomma fatto sta che stava lì e hanno trovato una sponda meravigliosa in questo personaggio e poi in tutto il mondo che stava dietro questo personaggio vogliamo dire il nome o lo teniamo in sospeso? no il nome è certo che lo dico si chiama Allen Dallas è un un avvocato new yorkese che negli anni successivi perché è un personaggio importante non solo perché all'epoca era capo del controspionaggio americano in Europa ma anche perché era successivamente sarebbe diventato probabilmente più potente e anche più più celebre capo che ha avuto la CIA molti non scusami un mondo intero all'epoca aveva in dote l'intero mondo dell'elite di wall street perché anche per questo si trovava in europa successivamente lui stesso ha acquisito un potere quasi senza pari nel mondo quindi diciamo che questa sorta di internazione nera ha avuto un alleato formidabile ecco diciamo anche più in generale Allen Dallas è anche conosciuto appunto come capo della CIA per essere quello che l'ha veramente inventata nella sua versione moderna e cioè quello che ha inventato la compartimentalizzazione del suo concetto iniziale quello della compartimentalizzazione secondo la quale l'ufficio A lavora su un progetto A l'ufficio B su un progetto B l'ufficio A non sa niente del progetto B e così si riduce di moltissimo sia la possibilità che fuoriescano delle informazioni dove non devono uscire sia che si possa poi accusare qualcuno di qualcosa perché tu chiudi l'ufficio A fai sparire quei tre che ci stavano dentro e di colpo il problema sparisce tra l'altro scusate poi ti rilascio la parola Allen Dallas è anche il personaggio che ritroviamo nell'omicidio Kennedy lui era capo della CIA nel 62 quando ci fu il caso della Baia dei Porci andò ovviamente in netto conflitto con Kennedy Kennedy ebbe il coraggio di licenziarlo e fu lì secondo me che iniziò quello che venne segnato il destino di Kennedy tant'è vero che poi quando Kennedy fu ucciso la commissione Warren scelse Allen Dallas come la persona che doveva selezionare le prove che venivano o non venivano poi accolte lui ovviamente non ha trovato nulla ecco naturalmente non è riuscito a trovare niente quello di entrambi i fratelli Kennedy è il tema di uno dei miei prossimi libri quindi su questo potremmo anche parlare a lungo e lui entra anche nel secondo omicidio Kennedy non solo nel primo a questo io non lo sapevo torniamo indietro allora scusa torniamo a prima della guerra perché Allen Dallas parte da molto lontano allora dicevo dalle sera un avvocato new yorkese lui è il fratello John Foster anche il fratello farà carriera perché diventerà il segretario di Stato ovvero il ministro degli esteri sotto entrambi i mandati di Eisenhower per ben dieci anni tutti gli anni cinquanta insomma gli anni più crudi della guerra fredda insomma questi due fratelli Allen e John Foster vengono spediti in Germania perché allora era il 1925 l'Europa si stava riprendendo la prima guerra mondiale e un gruppo di industriali e di banchieri statunitensi ha pensato bene diciamo che il ragionamento aveva anche un senso di poter fare più soldi trovando una sponda in Germania perché loro ritenevano che la Germania sarebbe diventato di nuovo la locomotiva d'Europa e su questo non ci sbagliavano non sbagliavano assolutamente e quindi loro che ragionamento hanno fatto? noi mandiamo in Germania qualcuno questo qualcuno trova l'uomo politico giusto che ci possa far entrare nelle stanze del potere che ci consegni, ci leghi al potere vero che c'è in Germania e a quel punto noi entriamo non come semplicemente dei committenti esterni ma come pezzi reali del potere che in quel momento devono essere in Germania e facciamo una barca di soldi perché la Germania ricomincerà a produrre denaro allora i due fratelli d'Alles quando arrivano in Europa approdano a Monaco e all'epoca una delle prime persone in cui fanno conoscenza è proprio Adolf Hitler e quelli del suo entourage e si trovano subito perché evidentemente e poi questo lo manifesterà in tanti modi Allen Dallas aveva io lo definisco nazista cioè aveva esattamente la stessa mentalità e oltre al fatto che avendo quel tipo di mentalità si trova a perfezione con gli allora dirigenti e il nazionalsocialismo il partito nazionalsocialista all'epoca contava pochissimo Hitler aveva appena valito un colpo di Stato era uscito di prigione insomma non aveva non era un partito che contava però lui ci ha visto lungo non solo ha trovato diciamo delle amicizie ma ci ha anche visto lungo e da quel momento arriva un vero e proprio fiume di denaro dagli Stati Uniti nei confronti del partito del piccolo partito all'epoca nazionalsocialista che lo trasforma in un grande partito non è solo per questo ma diciamo che quel denaro ha dato una spinta decisiva per la conquista del potere da parte del nazionalsocialismo in Germania e loro continuano questo sodalizio ovviamente una volta che il nazismo arriva al potere il sodalizio si rafforza perché a quel punto il governo tedesco di una nazione in piena crescita perché poi dà un grossissimo impulso ovviamente Hitler alle industrie attraverso la riproposizione delle industrie degli armamenti eccetera eccetera improvvisamente incominciano a ritornare parte anzi molto più di quello che loro avevano versato incominciano a riattraversare l'Atlantico e incominciano a ritornare questi soldi che sono frutto dell'investimento che hanno fatto e la cosa che lega quasi indissolubilmente questi due soggetti apparentemente molto distanti tra di loro è anche il fatto che la sponda tedesca quella americana incominciano a creare dei nuovi soggetti economici insieme faccio un esempio l'industria che produceva che produrrà in seguito è lo ciclum B che è quel gas che veniva usato nelle camera gas per appunto gasare le persone che si chiama E.G. Farman che è un colosso petrolchimico aveva un suo corrispettivo negli Stati Uniti e ciascuno era azionista dell'altro e così per tantissime altre industrie vengono create addirittura dei colossi bancari fatti da diciamo la cui proprietà era divisa a metà tra i tedeschi e gli americani in più le SS che prima ancora di essere degli aguzzini sadici erano una forse è stata la più potente multinazionale ci si è massata sulla faccia della terra più ricca sicuramente perché basta pensare a quello che ci ha anche raccontato Primo Levi insomma lui tutti i giorni andava a lavorare in fabbrica ad Auschwitz e le SS hanno messo su il più grande sistema di sfruttamento degli esseri umani che ci sia mai stato milioni di esseri umani che quotidianamente venivano lavoravano nelle fabbriche delle SS come degli schiavi allora immaginate oggi ovviamente chi produce in Vietnam in Indonesia o in Cina ha dei enormi vantaggi rispetto al resto del mondo perché paga il lavoro di meno pensate se il lavoro può addirittura essere gratuito quanti soldi si possono fare quindi la SS incominciarono a fare una montagna di soldi con questi soldi incominciarono a investirne una buona parte in queste grandi multinazionali americane quindi si creò un vero proprio sodalizio che aveva come al centro questo personaggio Allen Dallas e da una parte i dirigenti e la grande industria e la finanza del terzo Reich dall'altra parte la grande industria e la finanza di Wall Street ecco scusa si interroppa viene in mente un paradosso a questo punto che mi sembra che tu citi nel tuo libro tra l'altro fra i finanziatori pre-guerra dei nazisti c'era anche Prescott Bush che era il nonno dell'ultimo il padre di George il 41 e il nonno del presidente numero 43 il paradosso è che a un certo punto io mi ricordo anche che notai questa cosa pazzesca quando Bush figlio l'ultimo andò a celebrare lo sbarco in Normandia quando era presidente nel 2003 o 2004 mi sembra c'era questo paradosso per cui lui era lì a festeggiare diciamo l'invasione dei soldati militari americani che avevano liberato l'Europa dal nazismo i quali soldati erano stati uccisi con le armi del nazismo costruite con i soldi del nonno esattamente perché la cosa assurda accade durante la guerra allora io già lo trovo diciamo poco etico però se si può spesso come sappiamo la finanza e l'economia insomma la produzione spesso non è etica ma durante la guerra Stati Uniti e Germania erano nemici quindi a un certo punto gli stati uccisi mandarono i loro soldati a sbarcare in Normandia e vennero uccisi con pallotte finanziate probabilmente dal capitale che arrivava dagli Stati Uniti perché loro continuarono a fare affari per tutta la guerra e Allen Dallas continuò cioè Allen Dallas aveva questo stranissimo ruolo infatti Roosevelt lo odiava non c'era per nulla simpatia tra Roosevelt e Dallas Roosevelt avrebbe voluto farlo fuori tante volte e non c'è mai riuscito Dallas da una parte aveva il compito di aiutare tutti i movimenti partigiani in Europa quindi anche quelli italiani quelli francesi belgi e così via per fornire gli armi per fornire l'assistenza dall'altra era il miglior amico non tedesco del del nazismo quindi io non so come se la cavasse secondo me aveva una personalità doppia in quel periodo però è è surreale la storia di questo personaggio è veramente surreale e lui ovviamente ha avuto un'importanza primaria nel momento in cui come ho detto prima i i dirigenti del Terzo Reich e gli altri nazisti e fascisti Europa decidono di darsela a gambe di diciamo sopravvivere per far sopravvivere l'idea del Terzo Reich perché in un'Europa circondata anzi in un'Europa previdente occupata da una parte dai sovietici dall'altra agli americani e dagli inglesi è evidente che non c'è la strada di fuga cioè non sarebbe stato possibile fuggire per non per milioni di persone ma di solo per uno solo di loro sarebbe stata una cosa complicatissima riuscire a sfuggire dall'Europa eppure riescono a fuggire in milioni ecco scusa qui si apre il capitolo famoso chiamato delle ratlines ratlines cioè che sarebbero le letteralmente le corde per i ratti le linee per i ratti venivano chiamate così perché le gommene che legano le navi ai porti sono quelle attraverso le quali i ratti topi riescono a salire sulle navi e imbarcarsi ad andarsene da cui le linee di fuga dei nazisti vennero chiamate ratlines da chi erano tenute in piedi e da chi erano organizzate queste ratlines allora queste ratlines qui c'è dietro una storia diciamo ci dovrebbe fare un altro libro in realtà io ci sto facendo un altro libro esattamente su questa cosa qui però è molto complessa diciamo che a partire dal dalla seconda metà del 1943 iniziano delle trattative tra i dirigenti del terzo Reich guidati da Martin Bormann Bormann era il segretario di Hitler ed era il presidente del partito nazionalsocialista il numero due del Reich sostanzialmente Martin Bormann da una parte e dall'altra Allen Dallas queste riunioni si svolgevano in Svizzera alcune altre in Italia addirittura e poi c'era un terzo soggetto perché ovviamente non erano solamente nazisti tedeschi il terzo oggetto era il fascismo italiano e l'uomo che fu inviato da Mussolini per gestire queste trattative fu Licio Gelli che all'epoca era un ufficiale della Repubblica di Salò quindi c'era Gelli Dulles Bormann più una serie di altri personaggi non secondari erano tutti quanti potenti però insomma diciamo che stavano dietro questi tre per un anno e passa loro organizzarono questo gigantesco piano di fuga gigantesco perché come ho detto prima milioni di persone hanno abbandonato l'Europa sono riuscito a fargli questo esodo gigantesco è riuscito grazie all'aiuto dei servizi segreti americani quindi all'epoca l'OSS quello che poi sarebbe diventata la CIA l'aiuto dei servizi segreti britannici anche loro aiutarono i nazisti fascisti a scappare l'aiuto dei servizi segreti del Vaticano che ebbe un ruolo non secondario nella fuga dei nazisti e dei fascisti e qui c'è un particolare secondo me molto interessante ovvero il capo dei servizi segreti vaticani all'epoca era colui che sarebbe diventato Paolo VI annunzio apostolico prima di essere in Germania sì 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 cardinale Lottini certo lui era il capo perché il Vaticano aveva dei servizi segreti lui era il capo dei servizi segreti vaticani nel 1945 dopo di che questa rete creata appunto da questi due servizi segreti occidentali e dal Vaticano riuscì attraverso tante strade differenti il porto di Genova era uno di quelli principali da cui salparono tantissimi nazisti ma anche fascisti ma anche quello di Marsiglia anche quello anche dalla Spagna partirono in tantissimi insomma piano piano nel corso di due tre anni riuscirono a immigrare principalmente verso l'America Latina ma anche verso gli Stati Uniti o verso l'Australia o verso il Sudafrica milioni di persone perché al di là del diciamo di questa sua ideologia vicino al nazismo da parte di Allen Dallas perché gli Stati Uniti decisero di aiutare questi personaggi principalmente per due motivi primo perché stava finita la guerra già si stavano preparando a quello che sarebbe dopo cioè la guerra successiva conosciuta come guerra fredda quindi il loro nemico non era più la Germania ma era l'Unione Sovietica e quando devi combattere l'Unione Sovietica ti appoggi diciamo il ragionamento anche questo fila molto ti appoggi ai principali nemici dell'Unione Sovietica ovvero i nazisti e fascisti che peraltro l'avevano combattuto e l'hanno combattuto da bene e avevano una rete di spie diffusa in tutta Europa su cui potevano contare quindi questo è il primo motivo il secondo motivo la rete di spie da cui poi nacque Gladio Gladio nacque esattamente durante quei colloqui tra Bormann Gelli e Allen Dallas il secondo motivo è che la Germania era un paese all'avanguardia di tante cose era un paese all'avanguardia della scienza era un paese all'avanguardia della medicina era un paese all'avanguardia di un lungo elenco dell'ingegneria eccetera molte di queste scoperte che riusciva a fare riusciva a fare anche grazie agli esperimenti che ha potuto compiere su esseri umani cosa che normalmente non sarebbero possibili ma quando tu hai degli internati in un campo di concentramento puoi fare anche quello per cui moltissima diciamo che verso l'America Latina fuggirono i gerarchi delle SS quelli militari quelli abituati a fare la guerra ma tutta la parte diciamo l'elite culturale del terzo Reich invece si incamminò verso gli Stati Uniti si chiama l'operazione in questione si chiama l'operazione Paperclip e da lì gli Stati Uniti grazie a questo riuscirono a arrivare sulla Luna riuscirono a fare la bomba atomica scusa mi è venuto un colpo di tosse a sentire che sono arrivati sulla Luna diciamo che importarono gli scienziati che avrebbero stiamo sul condizionale tanto per essere ok che avrebbero mandato l'uomo sulla Luna l'ho detto per capirci insomma gli Stati Uniti sono riusciti a fare tantissime cose grazie agli scienziati nazisti certo uno dei vantaggi che gli ha portato anche scoperte in campo medico pazzesche che si è riuscita a fare grazie alle scoperte che portavano i doti i medici nazisti c'è la foto famosa di Von Braun che sbarca in America col braccio ingessato insieme a no è vero è proprio quella l'immagine cioè pensa il capo della sezione missilistica quello che mandava i missili su Londra quindi contro gli alleati viene preso salvato e importato in America per continuare la produzione di missili però a favore degli Stati Uniti esattamente perché a quel che ho capito fra l'altro sulla questione dei missili è successo così che alla fine della guerra gli americani e i russi sono arrivati praticamente insieme gli americani si sono portati via gli scienziati mentre i russi si sono portati via la tecnologia fisica cioè i razzi fisici gli strumenti di guerra che poi hanno retroingegnerizzato e ricopiato quindi sono partiti in avanti i sovietici rispetto agli americani nella corsa allo spazio perché loro avevano già in mano fisicamente i razzi che erano stati costruiti dai nazisti mentre gli altri hanno importato i cervelli che però hanno dovuto impiantare un'industria missilistica che ancora non c'era giusto? esattamente esattamente ok dopo la guerra questo nazismo che non è mai morto come si organizza nel mondo allora questo dopo la guerra si organizza come ho detto prima gli americani gli hanno fatto fare questo gli hanno permesso di sopravvivere perché ne avevano bisogno per la guerra fredda quindi si organizza attraverso viene creata una vera e propria rete internazionale che ha un nome si chiama Odessa che è un acronimo Odessa non è la città in Ucraina il porto in Ucraina ma è un acronimo che sta per l'organizzazione delle ex SS e questa rete che viene creata specialmente nel primo periodo è totalmente a supporto delle azioni degli Stati Uniti come una sorta di debito che va saldato in qualche modo la base di Odessa è in America Latina in particolare in Argentina e da lì si estende queste ramificazioni veramente tutto il mondo appunto dal resto dell'America Latina agli Stati Uniti l'Europa ma anche l'Africa e il Medio Oriente scusa una parentesi perché mi viene la domanda e verrà anche a chi ci ascolta in questo momento tu hai notizie hai conferme hai tracce hai trovato indizi della teoria dell'eventuale fuga di Hitler in Sud America o rimane così una poesia magari hai trovato qualcosa di solito quando dicevo che sto facendo un libro io sto esattamente facendo un libro sulla morte di Hitler e questo io sto scrivendo questo libro perché sono entrati in possesso di alcune migliaia probabilmente di documenti prodotti dall'FBI dalla CIA dall'MI6 britannico e dal KGB in particolare più di 2000 pagine del KGB all'epoca si chiama NKVD insomma diciamo quello che poi sarebbe diventato il KGB questi documenti specialmente quelli sovietici sono tutti quanti riguardano per l'appunto la morte di Adolf Hitler ed emerge chiaramente specialmente quelli sovietici perché i sovietici sono quelli che sono arrivati a Berlino sono quelli che sono entrati nel bunker sono quelli che hanno recuperato la salma di Hitler gli hanno fatto anche l'autopsia e quindi sono diciamo i più titolati in assoluto per sapere che fine abbia fatto Hitler bene io ho i documenti dell'autopsia ho i documenti dei responsi dei sovietici e anche le valutazioni che faceva Zhukov Zhukov era il maresciallo il capo delle forze armate sovietiche in Europa e l'autopsia risulta chiaramente lo dicono poi chiaramente l'autopsia risulta che non è Adolf Hitler quello diciamo il proprietario dei resti che sono stati trovati vicino al bunker di Berlino lo stesso Zhukov dice in più occasioni che Hitler non è morto nel bunker dopodiché i sovietici mettono su addirittura una squadra per far capire quanto loro non credessero alla morte di Hitler nel bunker mettono su una squadra vera e propria fatta di centinaia dei loro migliori ufficiali per poterlo rintracciare per dargli la caccia e la stessa cosa fanno gli inglesi e gli americani cioè nei loro documenti risulta esattamente questo cioè l'FBI ha prodotto tantissimi documenti nel 1945 1946 2007 e 48 che raccontano di questa caccia al Führer in tutto il mondo e lo stesso ha fatto l'MI6 e secondo te con tutta in realtà questa cosa l'ho ricostruita tutta insomma però mi domando da uno che non ha studiato il caso con la potenza di fuoco che avevano tutti questi servizi segreti combinati e mettiamoci pure anche gli israeliani che anche loro sicuramente saranno stati alla ricerca possibile che non siano riusciti a ritrovarlo? no ma sapevano esattamente dove fossero tant'è vero che appunto nei rapporti dell'FBI invece ci sono ci sono notizie dettagliate su Hitler dopo il 1945 diciamo che io in questo libro che scriverò ricostruirò fedelmente non solo quello che è accaduto prima cioè come è potuto scappare ma quello che è successo in quei giorni e come è riuscito a scappare eppure dove è andata a finire quello che ha fatto negli anni successivi io mi sono voluto fermare dal 1947 perché dopo il 1947 le notizie sono incoerenti nel senso che a quel punto non lo so cioè potrebbe essere morto potrebbe essere sopravvissuto in Argentina in Brasile cioè arrivano notizie di ogni sorta che mi sembrano più chiacchiericcio che cose serie e quindi diciamo che già il fatto che sia scappato sia finito in Argentina mi sembra già una notizia più che sufficiente sì certo anche perché appunto la storia che Hitler si avvelena con Eva Brown quella storia lì quella ci sarebbe da fare un film strepitoso già solo su questa storia qui perché questa storia è frutto della ricostruzione di uno storico di uno storico britannico e perché questo storico britannico lavorava per i servizi segreti inglesi per l'MISIX e a un certo punto Churchill dice senti vai e cerca di capire dove sta Hitler perché insomma ho bisogno di sapere se è morto oppure no questa cosa però avviene dopo cioè Hitler è morto sarebbe morto il 30 aprile del del 45 e questo personaggio incomincia a fare la sua ricerca a luglio quindi di mezzo maggio giugno luglio tre mesi dopo e ovviamente non trova un fico secco perché già deve andare in una zona che non è di sua competenza perché va in una zona sovietica immaginate quando inizia la guerra fredda un ufficiale britannico che va in una zona sovietica a rovistare nel bunker di Hitler già quello è strano di per sé dopodiché poi è chiaro che non ci trovi più niente dopo tre giorni non dopo tre mesi non trova nulla non trova assolutamente nulla quindi che fa ci sono cinque testimoni cinque che sono gli unici cinque che erano in grado sono in grado di dire che fine ha fatto Hitler questi cinque testimoni due erano in mano gli americani e tre i sovietici quelli più importanti erano in mano i sovietici e lui chiede a questo punto all'unione sovietica mi fate interrogare questi testimoni l'unione sovietica ha detto no non se ne parla proprio casomai ti diamo notizie di quello che ci dicono quindi l'unione sovietica gira agli inglesi a un certo punto delle testimonianze testimonianze che nel corso dei decenni sono state smentite dagli stessi autori di queste testimonianze cioè i veri testimoni quando sono riusciti finalmente a parlare perché di questi tre due sono sovissuti diciamo ai gulag e questi due hanno detto no non è vero che ho detto questo io gli ho detto altre cose in più gli altri due erano in mano agli americani lui non riesce a parlare nemmeno con questi americani che gli americani gli forniscono a loro volta una specie di versione di questi altri due fatto sta che la storia è stata scritta da un tizio che è arrivato mesi dopo sul luogo del delitto voi immaginate cioè già oggi una scena del delitto quando si arriva il giorno dopo è già compromessa immaginate con le bombe all'esterno c'era Berlino e più prende informazioni in seconda mano non trova un figo secco e sulla base di testimonianze indirette di persone che hanno pure smentito quello che hanno detto ha ricostruito la sua storia è come se avesse scritto una favola diciamo non ha nessun valore storico ma proprio zero e questo torna da Cerci io ho scritto sta cosa e Cerci ha detto beh qualcosa dobbiamo dire e a noi interessa dire che Hitler è morto ma queste cose qui sono uffici cioè non sono mie supposizioni sono nei documenti sono scritte queste cose e questo storico è bello che ha fatto carriera perché essendo l'unico che ha raccontato la versione ufficiale di Hitler è diventato il maggiore esperto del nazismo al mondo quindi questo ha fatto un sacco di soldi diventato un accademico importantissimo così importante che nel 1900 mi pare 81 non vorrei sbagliarmi Der Spiegel è imprevisente entra in possesso delle pagine che gli vengono spacciate per i diari di Adolf Hitler e dice a chi mi rivolgo per farmi identificare c'è lo storico più importante di tutti che è questo storico di Oxford vado a loro vado a lui e me li faccio identificare da questo personaggio e lui li ha letti si è retenuti per un po' di tempo li ha letti attentamente li ha studiati e li ha detto sono veri questi sono i diari di Adolf Hitler Der Spiegel pubblicati come lo scoop del secolo pubblichiamo i diari di Adolf Hitler per poi scoprire alcuno perché poi è stato uno scandalo adesso sono passati 40 anni ma insomma all'epoca fu uno scandalo clamoroso per poi scoprire che questi diari erano falsi questo farvi capire l'attendibilità di questo storico certo certo senti torniamo a Odessa Odessa ricompare nel tuo libro praticamente dappertutto dal Cile all'Ucraina all'11 settembre dimmi tre o quattro esempi storici anche recenti nei quali tu hai trovato tracce di questa organizzazione allora tu hai citato il Cile io nel libro tra le varie cose al di là della documentazione e così via nel libro pubblico c'è un intero capitolo su due personaggi uno è Lice Orgelli e l'altro è Stefano delle Chiaie perché parlo di loro non solo perché sono due personaggi centrali di Odessa nel senso che uno li pensa sempre come due personaggi italiani uno era il capo della loggia P2 della massoneria più oscura che abbiamo avuto in Italia e l'altro è diciamo il più famoso neofascista che ci sia stato nel nostro paese senso che è implicato in quasi tutte le stragi che ci sono state in Italia in realtà loro due sono due personaggi centrali per tutta l'organizzazione Odessa perché Gelli è stato l'intermediario tra la CIA e tra il Dipartimento di Stato americano e Odessa in tutto il mondo in tutto il mondo attraverso la P2 perché la P2 non era una loggia italiana era una loggia internazionale se pensate che tutti i dittatori sudamericani i loro i capi della polizia i ministri eccetera tutte le dittature latinoamericane erano tutti membri della loggia P2 e Stefano delle Chiaie era invece il braccio armato cioè quello che andava e organizzava le cose quindi lui andava in Cile e ha organizzato la polizia segreta cilena gli ha insegnato ai cileni come torturare le persone come farle sparire stessa cosa ha fatto in Argentina quando sono stati i disaparesitos che è andato in è stato dal Nicaragua al Salvador alla Bolivia al Paraguay all'Uruguay eccetera 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 io parlo di questi due non solo per il ruolo centrale che hanno avuto nella storia ma anche perché sono stato diciamo che sono stato l'ultima persona a intervistare entrambi tu sì entrambi prima che morissero hanno rilasciato l'ultima intervista a me e da buona ultima intervista come a volte accade si sono tolti un po' di sassolini dalle scarpe quindi mi hanno raccontato cose che in passato in vita loro non hanno mai raccontato o forse non hanno anche mai ammesso e quindi Delechiai ha parlato molto diciamo senza risparmiarsi ha parlato di quello che faceva in Cile ha parlato della sua amicizia con Klaus Barbie che soprannominato il Boia di Lione che stava processato in Francia e condannato all'ergastolo per la deportazione degli ebrei che viveva in in Bolivia e ha raccontato di come aveva messo su gli scotroni della morte in Salvador secondo me dagli anni 70 inizio degli anni 80 eccetera 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 e Gelli ha raccontato di come ha tessuto la rete massonica della P2 in tutta l'America Latina e di come tutti i dittatori erano in mano sua Pinochet compreso scusa questa tua intervista è in video o è un'intervista scritta? in video entrambe in video entrambe quindi si trovano in rete tutte e due ce l'ho io ah ecco avendo ricercato abbastanza non mi ero mai imbattuto in un'intervista ah ok perfetto sono due interviste lunghe perché Gelli sono tre ore e mezzo quasi e delle chiaie sono più di due ore di intervista quindi tu non intendi rilasciarle pubblicamente? non per il momento voglio trovare l'occasione giusta per poterlo fare comunque nel libro trovate ampi stralci ok abbiamo dato una notiziona da poco in questo momento anche perché Gelli racconta lì ho fatto un salto sulla sedia ma credo che chiunque si occupi di queste cose ne sappia qualcosa farà altrettanto racconta di un golpe di un colpo di stato che lui stava organizzando nel 1981 e cosa che non si è mai saputa e lui con molta rabbia dice che aveva già organizzato tutto aveva pronta questa lunga lista di quasi mille persone principalmente comuniste insomma da prendere e da portare in ha detto che c'era un comprensione di villette in Sardegna dove li volevamo trattenere come ospiti questa è la sua esplizione nell'estate del 1981 avevano pronto questa cosa qui per poi far passare in maniera parlamentare cioè far votare al Parlamento dalle forze politiche rimanenti il suo piano di rinascita democratica che era il suo modo di vedere il mondo insomma la trasformazione dell'Italia democraticamente in una sorta di dittatura insomma questo era il suo concetto e lui dice che purtroppo da parte sua questo colpe è saltato perché tre mesi prima a marzo dell'81 i magistrati i giudici istruttori Colombo e Turone hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Arezzo a Villa Vanda e hanno scoperto gli elenchi da P2 e questo ha fatto saltare ovviamente tutti quanti i piani di lice oggelli e lui racconta anche chi ha fatto chi ha dato la soffiata a Turone e Colombo per far scoprire gli elenchi a P2 spiega perché insomma magistrati che sono arrivati relativamente inconsapevoli di quello che avrebbero scoperto totalmente inconsapevoli ecco facciamo un altro salt perché non raccontiamo tutto andiamo più avanti tu mi hai chiesto tre cose tre esempi l'altro esempio l'11 settembre allora l'11 settembre in realtà voglio subito chiarire non è Odessa che organizza l'11 settembre insomma chiariamo subito questa cosa però esisteva un lungo sodalizio tra l'estremismo islamico e Odessa lungo sodalizio diciamo coltivato nel tempo perché Odessa essendo ideologicamente antisemita ovviamente ha fatto di tutto per far fuori Israele quindi ha aiutato in ogni modo tutti i gruppi palestinesi e arabi in generale che potessero combattere lo Stato di Israele nel corso dei decenni quindi si è creato questa sorta di sodalizio addirittura sodalizio che ha portato molti nazisti molti neonazisti o nazisti a convertirsi all'Islam quindi che è successo che il banchiere di riferimento di Odessa in quel momento c'era stato uno storico che si chiama Genou però era stato sostituito da questo altro banchiere che si chiama Huber che era il suo allievo questo banchiere di riferimento era un personaggio che si era appunto un nazista svizzero che si era convertito all'Islam io sono andato a casa sua e intervistarlo e adesso è morto però insomma lui c'era questa casa molto particolare dove quando entravi dietro di lui c'erano due due ritratti a sinistra il ritratto di Adolf Hitler e a destra il ritratto di Osama Bin Laden e lui era diciamo un fan di entrambi ed era convinto che Hitler fosse musulmano per questo lui si era fatto musulmano allora costui aveva una banca appunto la banca di riferimento di Adessa e attraverso questa banca sono passati i soldi che hanno finanziato l'11 settembre tutti gli attentati uno pensa sempre non pensa mai al denaro quando pensa a una strage a un attentato ma gli attentati a parte quelli fatti artigianalmente hanno dei costi dei costi molto elevati per l'organizzazione e per anche per riuscire a non farsi beccare altrimenti sarebbe tutto molto più semplice e ovviamente essendo l'11 settembre il più grande attentato della storia è stato anche l'attentato più costoso della storia e allora questo enorme fiume di denaro che proveniva dall'Arabia Saudita è stato parcheggiato per tutto il tempo necessario nella banca di Odessa e dalla banca di Odessa ha poi attraversato l'Atlantico per essere distribuito a chi di dovere per poi mettere in atto l'11 settembre questa banca aveva un nome e si può dire? cosa? questa banca aveva un nome e si può dirlo? si 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 la banca si chiama Altacqua ah mai sentito nella mia vita è una banca Altacqua che aveva peraltro sede in Italia a campione d'Italia immagino che nel tuo libro porti qualche prova perché è la prima volta che sento io ho anche le distinte le distinte dei bonifici su questo io li costruisco tutto quindi c'è esattamente tutto il percorso che ha fatto il denaro che poi ha finanziato l'11 settembre è stato un percorso molto tortuoso perché semplificando molto dalla rabbia esodita è finito in una banca new yorkese all'epoca questo enorme trasferimento di denaro insospettì l'allora procuratore del sud di Manhattan che bloccò il denaro che fu sbloccato grazie all'intervento personale dell'allora sindaco Rudolf Giuliani che lui diede la garanzia di questo denaro per farlo risbloccare e allora questo denaro riattraversò un'altra volta l'Atlantico e finì appunto una banca altacqua di questo Ahmed Uber che era il banchiere di Odessa e da lì riattraversò un'altra volta l'Atlantico quando servì quindi a questo punto eravamo a ridosso del 2000 perché il finanziamento parte alla metà degli anni 90 questo enorme finanziamento perché l'11 settembre ci hanno messo sette anni per metterlo in piedi riattraversa l'Atlantico e finisce in una succursale finanziaria di un colosso che non esiste più insomma un colosso finanziario dell'energia era la più importante società che finanziava non mi direi che era la Enron esattamente curioso curiose coincidenze e dal succursale della Enron i soldi vengono distribuiti cioè lì c'è proprio un personaggio che incomincia a staccare a segna a distribuire soldi a tutti quelli che hanno bisogno di questi soldi quindi questo diciamo riassumendo molto è il è il percorso di questo denaro e all'interno di questo percorso appunto ha avuto un ruolo decisivo la banca di Odessa ultimo argomento che mi interessa attualmente anche perché stiamo parlando in questi giorni di Biden invece è la questione ucraina il coinvolgimento in due rivoluzioni colorate praticamente che ci sono state e soprattutto quanto ha avuto a che fare Biden nella seconda operazione allora chiediamo subito Biden io non so nemmeno se abbia le capacità diciamo intellettuali per farlo Biden non ha organizzato la rivoluzione ucraina anzi io lo chiamo il golpe ucraino perché è stato un vero e proprio colpo di stato non è stato lui a organizzarlo però lui è stato colui essendo all'epoca vicepresidente è stato la persona che ha sostanzialmente messo la garanzia politica per quello che stava accadendo perché in Ucraina è avvenuto è stata una delle tante occasioni in cui c'è stata questo connubio di interessi tra Odessa da una parte e gli Stati Uniti dall'altra questo connubio di interessi è avvenuto innanzitutto dal fatto che l'Ucraina è un paese strategico quindi gli Stati Uniti ovviamente serviva l'Ucraina e dall'altra parte a Odessa pure per Odessa era un paese strategico perché tutti parlano sempre dei nazisti tedeschi ma in realtà i nazisti erano sparsi in tutta Europa e spesso quelli più feroci non erano in Germania erano in Belgio in Lituania in Ungheria e anche in Ucraina allora quando ci fu la grande fuga che abbiamo raccontato prima dall'Europa vennero proprio smobilitati all'Ucraina riusciti a far fuggire all'Ucraina decine di migliaia di criminali di guerra che finirono tutti in questo caso negli Stati Uniti negli Stati Uniti c'è una città infatti io inizio il racconto dell'Ucraina da una città che si chiama Parma mi ha molto ingannato perché per almeno dieci paragrafi credevo che fosse la nostra Parma e dicevo fracassi impazzito invece poi ho scoperto il trucco periferia di Sinsinnati una cittadina di circa 80.000 abitanti che sono praticamente tutti ucraini è una sorta di enclave ucraina negli Stati Uniti è nata proprio grazie a questo esodo biblico di criminali di guerra quindi è un luogo cresciuto a pane nazismo non so come dire questi criminali di guerra erano le brave persone erano i nostri bravi ragazzi e queste persone con l'appoggio anche ovviamente dei servizi americani nel corso del tempo hanno i loro figli e così via hanno fatto carriera sono entrati nel dipartimento di stato nella CIA nei grandi multinazionali hanno fatto carriera là dentro una di queste persone una di queste persone è colei che si è sposata quello che sarebbe diventato il presidente dell'Ucraina non so se vi ricordate quando ci fu la rivoluzione arancione nel 2004 in Ucraina l'oppositore cioè colui che capeggiò questa rivoluzione era un personaggio che poi fu avvenerato dal KGB e che c'era la faccia tutta butterata ah si è un ricordo esattamente sua moglie era americana di origine ucraina ed era una fervente nazista ma pervento il vero senso la parola cioè io ho trovato anche diverse fotografie di lei con la divisa delle SS facendo il saluto romano quindi praticamente gli ucraini fanno una rivoluzione colorata a favore della libertà e mettono a capo il marito di una nazista esattamente questo nel 2004 dopodiché la presenza di estrema destra in Ucraina cresce sempre di più sostanzialmente inizia pesantemente da quando l'Ucraina ottiene l'indipendenza dall'Unione Sovietica insomma dalla Russia da quel momento in poi la presenza dell'estrema destra in Ucraina cresce sempre di più perché incomincia a esserci questo controesodo piano piano dagli Stati Uniti verso l'Ucraina i partiti di estrema destra raggiungono nel 2010 il principale partito di estrema destra insomma di quello che si presentava in Parlamento che si chiama Svoboda in alcune aree dell'Ucraina occidentale supera il 30% dei voti ed è un partito dichiaratamente nazista non è un partito di estrema destra e basta è un partito dichiaratamente nazista allora questa presenza diventa sempre più forte vengono creati i veri e propri squadroni della morte in Ucraina per combattere le russie e così via quindi Odessa in qualche modo vede nell'Ucraina il suo quasi non so quello che potrebbe essere il suo successo più grande perché era un paese centrale per l'organizzazione quindi da una parte Odessa vuole prepararsi l'Ucraina dall'altra gli Stati Uniti vogliono un paese fondamentale perché è un importantissimo paese oompeo è un paese chiave nello scacchiere geopolitico europeo poi c'è un altro elemento che è l'elemento antirusso e diciamo c'è una parte ancora degli Stati Uniti che ragiona come stessimo ancora nella guerra fredda ragiona in termini antirussi e c'è Odessa per una sorta di traslazione non esiste più l'Unione Sovietica adesso c'è la Russia che non c'entra un fico secco con l'Unione Sovietica però sono antirussi a prescindere e quindi queste due cose questi due elementi formano un collante eccezionale che portano all'organizzazione di una successiva rivoluzione questa volta molto meno rivoluzione perché è un vero e proprio golpe militare ci sono centinaia di morti si spara per le strade insomma è qualcosa di clamoroso quello che è accaduto in Ucraina nell'inverno tra il 2013 e il 2014 e da parte degli Stati Uniti viene inviato in Ucraina il sottosegretario di Stato quindi l'allora vice ministro degli esseri una certa Victoria Nuland anche lei è una ebrea però legata attraverso il marito a dei circoli di estrema destra eppure lì sembrano cose molto strane perché uno pensa come un ebreo che va con succede anche questo però la Nuland è un pesce piccolo è un vice ministro non è insomma non occupa un ruolo molto alto nella scala gerarchica del potere statunitense e quindi a quel punto la Nuland si occupa delle cose pratiche ma viene spedito Biden Biden va in Ucraina fa tantissimi viaggi in Ucraina veramente tanti viaggi in Ucraina perché la sua presenza in Ucraina è la garanzia che gli Stati Uniti come paese appoggiano quel che sta accadendo lui mette una sorta di cappello politico a quel che stava accadendo quindi scusa il diciamo il fatto che alla fine il figlio di Joe Biden sia entrato nella burisma della società petrolifera con tutti i vantaggi è una specie cos'è una specie di premio di produzione che Biden ha avuto per il suo ruolo che ha avuto nella liaison con gli Stati Uniti è una sorta di tangente cioè una tangente dando un premio a un figlio consegnandogli il consiglio di amministrazione delle più importanti società di gas del mondo cosa che probabilmente non posizione non avrebbe mai raggiunto con le sue forze insomma perché non era esattamente un esperto di energia il figlio di Biden diciamo Biden sta così premiato cosa c'entra in Ucraina uno come un americano questa è la vera domanda a parte esperto o non esperto di gas ma che ci fai tu in una società non ci fa nulla se non per il fatto che Biden è stato ricompensato in qualche modo non so se il premio di produzione ricompensa o tangente poi ognuno lo vede con la sfumatura che vuole ok senti di input ne abbiamo dati già moltissimi spero di aver stimolato la curiosità io l'ho letto di corsa ma con molto interesse ho trovato un sacco di cose che non sapevo e che mi ripropongo di approfondire dove si può trovare il tuo libro? allora io oramai ho preso questa piega questo libro non si potrà mai trovare in libreria non lo troverete non lo troverete nemmeno su Amazon l'unico modo per averlo è sempre attraverso di me esattamente come il protocollo contagio per chi l'ha già acquistato la procedura la conosce comunque per averlo bisogna scrivere il gmail la mia gmail personale che è francofrecassi1 chiocciola gmail.com francofrecassi1 chiocciola gmail.com io vi risponderò e vi spiegherò come si fa ad avere insomma sostanzialmente attraverso un bonifio attraverso il paypal insomma vi spiegherò tutto quanto e vi arriverà il libro io tutti i libri che spedisco li spedisco con la dedica personalizzata quindi ciascuno di voi che prendere il libro avrà anche la mia dedica spedendoli io questo vantaggio diciamo ok mi devi fare ancora una promessa prima di salutarti dimmi dimmi quando deciderai di mettere online l'ultima intervista di Gelli ce ne dai un pezzettino in anteprima mi hai incuriosito da morire sta storia va bene Gelli racconta veramente tante cose ecco però tieni anche tieni anche presente la tua sicurezza personale questo è importante va bene va bene grazie mille Franco e ci sentiamo fra tre mesi per il prossimo libro a questo punto giusto sì io sto già preparando il prossimo benissimo grazie a tutti grazie Franco arrivederci buona serata ciao